salpiamo verso la vittoria in questa nuova lost place ciao sal sal è qua con me in questo posto perduto mi ricorda un po l'atlantide per questo che ho usato il termine salpiamo sal verso questa avventura giusto solo questo tanti applausi per solo questo mettete like per le sue battute fantastiche e proponetelo agli youtube awards 2018 si perchè zombie sarà presente agli youtube awards 2018 non è vero vi sto dicendo una grandissima stronzata però però ci sarà ragazzi però ci sarà sì jimbo che ha raggiunto i 100k ricordiamo la scommessa cheat 2018 no però era vera sta cosa mi sembra sì 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 tipo a inizio 2017 ha detto ragazzi voi ridete e scherzate ma il jimbo del 2018 avrà 100.000 iscritti entro fine anno dopo l'ultimo video clickbait con hating contro jimbo è pesato beh certo ho lanciato un po di dissing a jimbo per farvi capire che questo non è il modo di comportarsi io sono nelle impostazioni perché sto alzando la luminosità ho già visto carabuglia ho detto c'è la torcia ah c'è la torcia io sto alzando la luminosità no ma c'è scritto tipo premi per attivarla disattivarla non ho ben capito c'è all'inizio c'era scritto tipo però premere un po tutti i tasti no raga c'è già l'ambientazione è figata me c'ho la torcia spenta come si accende la torcia qua tipo f provo f non si sta accendendo ah sì 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 ma ce l'ha accesa eh no sì adesso 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 sì ok è un po' è strano eh perché non c'è boh è un po' paghata è un po' buia sta mappa comunque cosa sono queste cose allora ecco sono zomi molto particolari con calma intanto vieni qui vicino al fuoco salvatore che eh c'è freddo c'è freddo eh facciamo le castagne aspetta butta dentro un po' di castagne oh le castagne buone non sono proprio castagne quelle però se credi se va bene buonissime le castagne ok si ah doppio bisogna prendere due volte sul F per me si spenta ok ok però non si capisce se si boh allora raga salve bentornati allora in questo video gameplay come promesso fine settimana questo esce domani sale pensa che bravo che sarò che figata gli zomi quelli ok grossi sono solo chiuso eh vabbè eh però raga uno invita i giocatori che dice no beh ma sale ha tanta esperienza nell'ambito zomi insomma se gioco con lui non sarà come giocare con il de bernardi no andrea stavo per morirci male anch'io ecco ti frega questo spazio qui eh quel posto lì io pensavo di poterci girare intorno ascolta uccideli con la granata uccideli con la granata uccideli con la granata uccideli con la granata eh vabbè dai volevo fare un figlio ma fammi complesso il bar muro qua che così la facciamo ok ok vai 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 ci siamo tira su tira su tira su raga spero che vediate qualcosa perché la mappa è un po' buia eh ma guarda sono a 0.40% e l'alza ancora un pelo vado a 0.48 giusto per star tranquilli e che poi diventa sul bianco se alzo troppo no beh no senza rovinare troppo però allora abbiamo sta porta ma non apri te apri te apri te apri te apri questa apri questa ok vai 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 ok ma molta f... cioè è assurda l'ambientazione allora è bellissima però secondo me aspetta ma non è che c'ho il monitor in aaaaah l'ho messo in modalità gioco adesso ci vedo vecchio aaaaah lui c'è il modalità gioco eh eh che aumenta la luminosità ha capito? hai capito il vecchio eh quando sai non c'è le palle di giocare annesia fai così metti il monitor in modalità gioco e così dici oh ma è giorno e così giochi meglio oh ma è ronco allora nooo non l'ha sentito la mia battuta meno male no non l'ho sentito cosa hai detto sentiamola hai detto oh ma è giorno io ho detto oh ma è ronco vabbè ronco e san crespino il nostro ma il lucchetto che c'è nella caudimbas a destra fa vedere ok c'è nel... allora quello sta ad indicare che questo cancello si apre non si apre sal ma qua noi siamo bloccati o c'è qualche porta? sto cercando di capire salvatore io non ho comprato armi a muro e ho finito l'emmo e comprale guarda che qua sono parecchio incazzati se vanno qua sal ho preso ho preso una gemma la vedi in alto perchè c'è una... si la vedo anch'io rossa l'ho presa da terra era una cosa rossa grande grazie ah munizioni ma io ragazzi non vedo gli zombie c'è incredibile sono senza un'arma a muro sal non trovo un'arma a muro e vai dentro certo dobbiamo lasciare lo zombie certo vado dentro con... prendi bonus che bonus è che bonus è vedo un cazzo no ma corrono come di forse oh bomba bomba ok portami un attimo d'all'arma vieni dentro vieni dentro vieni dentro sulla sinistra in fondo sulla sinistra ok 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 vediamo se se lo puoi aprire qui dentro uccide qualcuno sta roba vero? è l'M1 Garand ok allora piazza Rubino oh vieni 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 Mirko Mirko dietro 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 ok dove cazzo eri? piazza Rubino piazzalo te vai 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 vediamo cosa succede qua 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 allora mi sa che c'è un altro ok si fin da Rubins si 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 c'è un altro ah dobbiamo aspetta dobbiamo SOL no 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 cosa sono ste robe allora allora questi sono dei cani un po' antipatici no ragazzi ma qui c'è qualcosa di allora 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 è un po' psichedelica sta mappa eeeh ma c'è aspetta allora è impossibile non ci siano altre armi a muro un po' più forte perché questo Garand fa davvero schifo eh si fa tra questa e la pistola non so se questa porta forse si apre no è la chiesa mi sa cioè lì è dove ho trovato Rubino prima per farti capire ma qui tipo catacombi oh qui ha 1250 sto prendo catacombi catacombi vai tu che se ti chiudono ok vengo dietro vado vado che cazzo è ok oh mio dio beh l'ambientazione è affigata c'è le granate al muro le granate al muro c'è le armi forti le cheat aspetta teniamone uno va no qui c'è sì 200 punti 2000 punti cosa ce la fai vai apri 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 no ma non è una cosa si apre è tipo si 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 or get a lighter aaaah o spendi 2000 oppure get a lighter quindi una torcia infuocata aaaah per la video che è figa fuse un fusibile prendilo prendilo ok found fuse numero 1 place item into the global inventory ok oh il jug è qua sal comunque a me non mi funziona la torcia ragazzi sto premendo io a me sta funzionando però oh l'MP40 oh beh te che poi prendilo fuse numero 2 sal ok ok no ma tanto farli vedere te che si si beh certo sono io la madonna che grande guarda qua giù allora due volte F per accendere la flashlight si si vabbè qua te lo ricordo praticamente I need a light and a key to open this ok una chiave e una luce una luce e una light si eeeh sal sono sott'acqua what rubino rubino no ma perchè c'ho scritto premi spazio tu m'hai entrato a tornare su mi sa però c'è rubino lì sal si si prendiamolo prendilo vai allora andiamo a mettere sai che mi sono straspaventato perchè sono caduto dentro eh in caso poi fuori cioè stavo camminando così oh qui c'è un qualcosa che piacerebbe a koshi eeeh il bow with the koshi perchè non stanno arrivando gli zombie comunque e come si arriva lassù si si lascio 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 ok andiamo a piazzare strubino sal sono proprio curioso di vedere cosa succede comunque c'è un'altra zona qua no allora io apprezzo un sacco no mi son perso no mi son perso ah ok si si io ho apprezzo un sacco sta cosa comunque della mappa buia perchè è una bella challenge si ma poi ti rende quella sensazione spaventosa diciamo no mi son perso di qua eh si qua di qua di qua di qua torno indietro era qua dove bisognava pagare 2000 oppure la cosa ok no è bello perchè allora secondo me è bello qua qua sotto si però fuori un po' più di luce l'avrei messo si qua effettivamente si si no qua sotto lì era davvero figo eh davvero vabbè se ci pensi però ce n'è già di più eh comunque rispetto a sotto beh un pochettino di più senza dubbio allora vai piazzo ce n'è un altro ah il terzo cazzo ma poi bisogna anche eh ah no no ho capito questo suono no no perfetto eh sono delle voci premi F per pick up para lighter ah ok quindi una ci serve solo la chiave si 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 abbiamo preso la lighter forse potevi risparmiarti anche quei 2000 prima eh vabbè ormai ok io dovrei prendere le mp40 però eh si senza dubbio si quanto punti hai ah posso passarti i punti non è world war 2 però perchè ho aperto quella porta da 2000 che ok vai 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 fatti i punti fatti i punti instant instant vai 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 tu coltella tutto ammazza tutti round 6 corrono almeno round 5 prima correvano assurdi si si non è non è una mappa facile anche per il fatto che non si vede niente è un tipo dei clown ma che cazzo sono? c'è della roba in lontananza si vede davvero poco eh c'è da dire si si vede niente rosso what? meno male che te c'hai il monitor figo si si è però lo stesso non vedo un cazzo spara 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 un po' spara un po' spara un po' eh spara a te che c'è la mp40 che io ok finito è finito è finito ok allora io devo assolutamente prima di questo round fu fu sal sono dietro di te ok beh i punti adesso ce li hai allora fammi fammi fare un po' cioè fammi uccidere eh no ma non posso andare nelle catacombe da solo si si adesso ti uccido gli zombie così passa il round lasciamone uno lasciamone uno no non farlo passare eh ok sto andando sto andando vai 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 intanto ti prendo dai con rigori e vai ti accompagnati ti compagni che compagni andiamo mi ricordo neanche dove era allora potrebbe essere un po' pericoloso in due c'è da dire allora che una destra lì destra sì a destra esatto di là segui ora sinistra sinistra qui c'è il giag ma il giagno si eccolo eccolo no di attivare l'energia prima abbiamo tratto due fuse mi sa che servono altri fuse ah che facciamo stiamo giù stiamo giù dai stiamo giù stiamo giù per sto round dai tutti noi abbiamo le piccolate C'è anche un tavolo da lavoro se non è Dove? No, no, ma non era di qua Mi sono perso, Sal Ok, ok, ci sono, mi vedi? Sto bloccato! Passa, ti prego, no Sto per morire Il problema, Sal, è che qua Forse era meglio stare sopra Dici! Allora, stai lì, stai lì un attimo Stai lì un attimo che giro un po' Ma no, quanti, ma no, quanti No, ma forse C'è munizioni Quando serve una bomba O un instant Non riuscirà mai verso Senza jag, è questo il problema Eh no, ciao Allora, c'è un bel comando che tutti voi conoscete Fast, trattino basso, restart Anche mappe restart esiste Sì Però questo è più veloce, giusto? Eh, il 19 tecnica Esatto, quindi Ok, ragazzi Sente la musichetta sottofondo di fine Siamo all'inizio, però Allora, ragazzi, tranquilli Quello che avete visto Allora, la mappa è difficile Prima ci siamo un po' Lasciati prendere dal panico E soprattutto con il fatto che Eravavamo finito i punti Adesso che abbiamo la lighter Vabbè, la prima run Comunque conoscevamo Comunque la lighter qua ancora non c'è Però mi viene in mente Che forse la lighter ce l'ha data A fine del round dei cani Può essere? Non ho un'idea Cioè, o è stata O è stata per colpa dei due rubini O è stata per colpa della fine del round dei cani Perché è comparsa in contemporanea Quando è finito il round dei cani Ma era una cosa fisica O comunque sono Ma vedi che Allora, qua c'è un accendino No, c'è Ho trovato il lighter Ah, l'hai già presa? Sì, era qua L'accendino era Era sopra il tavolo Ma quindi con l'accendino Comunque secondo te Non possiamo buttar giù quella ragnatela, vero? Perché diceva che dovevi avere una Non so se era lighter o una light in generale Eh, ho letto veloce anch'io, non lo so Mi ricordo solo Ma secondo me, tecnicamente funziona Scusa, c'erano solamente il ragnatela Tu dici O paghi duemila Oppure ci sta come cosa? Se tieni premuto tre Apri il menu delle challenge Guarda che figata Tieni premuto tre Ah, eh, aspetta Adesso non muovi Se aprirata a sinistra è davvero una figata Molto minimal Ah, ok Ah, quindi ci sono anche delle challenge con ricompense Oh, aspetta, aspetta Non li prendere subito Vai, vai, vai Facciamoci il round Ok Vai Facciamoci il round Sono tre qua Quasi tentata a prendere Ti dai, prendo le M1 grande Che tanto prima di andare giù E prendere le MV40 ne passa Sì, anche se però Se non spegniamo punti Per la prima Eh, no Ma con la pistoletta Arrivare fino all'aggiù Secondo me Almeno uno dei due Se non me lo deve avere Ok Vai Non prenderlo già Vai, facciamoci più punti possibili qua adesso Afferiamo Dei bonus buoni Sì, sì, sì Decisamente Dei bonus buoni Rosso Eh, idem Attenzione Attenzione a non fare le cadute a terra contemporanee Come il nostro solito Aspetta a prendere la bomba Che così Sì, sì Ecco Sal dietro Forse è meglio prenderla la bomba Sì Decisamente sì Vabbè dai 800 punti a tutti Non è una cosa Sì, infatti C'è stato Tanto ne mancavano pochi Boh, boh, boh Allora Ascolta 1250 L'apro io Vai Ok Tu vai subito a aprire la prossima Io apro le cadute a gomme Perché questo qua Ma costava mi pare Costavano 1250 anche queste Vai Ok, guarda Ok, vediamo se riusciamo a aprire subito la porta La 2000 senza spendere Tu hai preso il lighter prima Quindi di provare tu Sì Non l'ha fatto Aspetta, aspetta Il fuoco mi stava danneggiando Comunque Del Del Dell'accendino No, ti vedi un cazzo Comunque l'hai bucciato senza appagare Allora o fai cassa O prendi un IP40 Qua su c'è la cassa Allora fammela fare Aspetta Io sono un po' di zombie adesso Ehi No Eh ma hai visto come Eh no Sei morto No, 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 no Ma hai visto cazzo Mi han tirato un doppio attacco Che porca puttana No, sono morto Eh dai Eh, dai No, dobbiamo lasciare lo zombie per andare giù Sì, 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 no Raga, laggiù non si gira Non si gira un zoom Porca tre, mi han tirato un doppio colpo Che in mezzo basta Cioè io mi sono trovato a terra Così Sono arrivati in corrono Corrono troppo vecchio Corrono troppo Sì, no, ma è assurdo Eccolo qua Eccolo qua l'accendino Eccolo qua l'accendino Eh vai, prendilo te Così bruci testa Sto giro Ok, raga Allora abbiamo l'accendino Allora dobbiamo ottimizzare i punti E lasciare lo zombie a fine round Sì, no, per forza Non si può pensare di andare giù Con Eh, laggiù è Troppo un casino Troppo un casino Secondo me Allora la cosa da fare Facciamo i round qua sopra in ogni caso E poi andiamo giù Sempre tenendone uno